allora ciao a tutti ragazzi oggi ritorniamo a giocare su un range 3d allora almeno mo ce la sto facendo speriamo che continua così a giocare vai 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 dai continuiamo così vai vai no no ho sbagliato sbagliato no si vai sì ce l'abbiamo fatta mamma mia prossima partita dai 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 dobbiamo arrivare il 21 io mi cambierò un nome non so che nome mettermi vai continuiamo così sì vai 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 oh ce l'ha fatto moni sky prima era terzo sì me lo sto facendo oddio ti immaginate che non ce la facevo dai edizione completata 1144 euro ma è questa qua è questa qua so forte io vai che possiamo recuperare vai no non possiamo recuperare perché mi va sempre l'intentazione di andare là eh non ce la faccio eh non ce la faccio no no dai ho sbagliato l'intentazione di andare là ho sbagliato l'assaltare mo faccio st'edizione e faccio sto livello e arrivo primo e basta e dopo chiuderò il livello e chiuderò il video perché io questo qua non so come mai non so come mai non sono forte è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sono spinto fino a là perché mi andava. E ciao.